Se siete qui è perché siete stati individuati dall'agenzia perché non vi piacciono le ingiustizie. Per ogni guerra, per ogni attentato, per ogni carestia c'è un sistema che l'ha voluto. Noi siamo nati per opporci a tutto questo. Che devo fare? Usatemi. Come? Ti farai assumere da loro. Diventerai una di loro. Ma resterei una di noi. Chi sei? Noi siamo citadel. Ci sei? Noi siamo citadelici.